qualità. Il consumatore ci dice per il 72% degli intervistati che è disposto a spendere di più per la spesa alimentare se avesse la certezza dell'origine. Detto i suodoni significa che se ci vedo scritto il nome di un nostro contadino sul tetrapack di latte lo compro più volentieri, ci spendo anche un po' di più perché faccio un investimento sulla sicurezza alimentare, sull'identità del mio territorio e soprattutto garantisco il mantenimento di un contadino, di un produttore sul territorio. La vera sfida è